E' stato presentato a Palazzo Lascaris il nuovo portale dell'ARPA che aggiorna sullo stato dell'ambiente della nostra regione. Il sito racconta il cambiamento del nostro territorio negli ultimi dieci anni, seguendo l'evoluzione delle numerose informazioni ambientali raccolte, analizzate ed elaborate nel corso del tempo. E' possibile scegliere il proprio percorso navigando linearmente attraverso tre grandi tematiche, aria, acqua e territorio. Il cittadino ha la possibilità, nel nome della trasparenza, di rendersi conto dello stato dell'ambiente in Piemonte? Certamente, questa è una novità importante per quanto riguarda il portale che abbiamo realizzato. Io credo che sia estremamente utile per il cittadino comune ma anche per il professionista riuscire a reperire i dati, questi sono dati certi, sono dati che derivano da migliaia e migliaia di analisi che vengono fatte dai nostri operatori e dai loro approfondimenti conseguenti.